Nel writing dovete cercare di metterci il più stile possibile e alla fine il gioco è giocare con le lettere e farlo nel migliore stile possibile per distingersi dalla massa. Il mio consiglio è non cercare di fare cose da un mese perché l'esperienza si attiva con il tempo quindi magari partite da cose più semplici ma fate bene. Grazie a tutti. 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 Bankrock. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.